di questa interessante giornata che si colloca all'interno del Festival del Turismo Sostenibile in occasione insomma anche della strategia marketing della Romagna Toscana, del turismo lento e tutta una serie di azioni collegate a questo progetto. Naturalmente è un progetto che si rivolge al B2B e quindi all'interno insomma di questi laboratori ne abbiamo alcuni proprio dedicati ai temi e ai segmenti più interessanti del turismo. Abbiamo iniziato stamattina con il turismo religioso e proseguiamo con il segmento invece del turismo legato al wellness che è un concetto ampissimo e quindi oggi abbiamo il piacere e l'onore di avere veramente un grande specialista e quindi grazie di aver accettato il nostro invito e presento a tutti voi il dottor Amadeo Furlan lui è uno psicologo specializzato in malattie psicosomatiche, è membro del senato accademico di una prestigiosa università americana è un mental coach, è un autore di diversi libri, insomma tiene specie conferenze in tutto il mondo insomma quindi abbiamo deciso e pensato che potesse essere la persona giusta insomma per darci il suo parere quindi buongiorno Amadeo grazie di essere qua con noi. Buongiorno Giacomo grazie dell'invito lieto di esserti spalla in questo progetto meraviglioso che stai portando avanti ma tu sei sempre avanti in ogni caso con le tue idee. Sai che se sei troppo avanti fai il giro dopo ma ritorniamo a prendere quelli che sono rimasti indietro non lasciamo nessuno indietro, questo è il bello della diretta. Grazie Allora senti, io partirei subito con una domanda. Wellness tu sai che è una parola che è stata coniata in Romagna ed è un concetto veramente molto ampio di benessere quindi che va dalle cliniche del benessere che curano i sani, da chi cura l'anima insomma l'abbiamo visto nel turismo religioso. Il focus per noi sono i piccoli territori che in qualche modo cercano di posizionarsi e di trovare come dire uno spazio in questo nuovo scenario del turismo. Quindi come si abbina questo concetto di wellness rispetto all'idea di un nuovo modello di turismo secondo la tua esperienza? Allora guarda, io come te amo guardare i mercati di riferimento e quindi il mercato americano è un mercato per esempio che su questo ha fatto passi da gigante perché è iniziato piano piano, tu hai citato una cosa molto interessante, il turismo religioso e in America questo è stato uno degli elementi fondamentali dove hanno spostato veramente i tribù di persone ad ascolto di guru che in qualche modo parlavano non tanto in termini di religione Dio ma intanto di anima, cioè come curare l'anima oggi sappiamo sempre di più che per curare l'anima, per curare anche la parte psichica per curare anche la parte fisica, quindi sono tutte connesse, bisogna fare qualcosa di più e quindi ecco che nascono in Italia in maniera così un po' improvvisata molti mental coach che non hanno delle basi strutturali ma che si improvvisano e quindi vanno, non so, negli alberghi a proporsi e quindi nascono queste fai da te dove certamente influiscono perché raccontano anche delle cose molto interessanti però per andare un po' più in profondità e fare cosetto wellness che non è solo andare a correre, non è solo andare in palestra, non è solo abbinare, adibire come fai te delle aree specifiche degli hotel, degli alberghi dove fai la spa, dove fai il momento di massaggio, dove fai il momento di come dire di meditazione, ma c'è qualcosa di più perché le persone per capire meglio la meditazione, per approfondire meglio il massaggio, per approfondire meglio tutti i temi anche di perché la sauna, perché una passeggiata la mattina presto lungo le nostre spiagge, bisogna conoscere anche un po' come funziona la mente e allora ecco che interviene il cosiddetto mental coach che a mio avviso deve essere una persona estremamente preparata, è una persona che verticalizza molto delle conoscenze perché gli hotel quando si sono bruciati, come dici te, l'immagine poi diventa difficile, poi deve arrivare Giacomo Pini che deve cercare di sistemare le cose e non è così sempre facile perché quando un cliente va via e non trova il corrispondente lì dentro e vuole andare a come dire a riappacificarsi con l'anima nella natura, allora qui diventa molto 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 difficile. Allora ecco che il mental coach ha questo compito, pensa che negli alberghi di montagna oggi ci si avvicina alla cosiddetta medicina forestale, andare in mezzo alla foresta per respirare i terpeni, respirare gli oli essenziali. Ah questo è molto interessante perché insomma qui parliamo di Appennino, tu sai che la costa romagnola ha circa 110 chilometri, l'insieme dei 14 comuni della Romagna Toscana, tutto il percorso sono circa oltre 200 chilometri di Appennino, quindi in teoria un potenziale enorme insomma ecco dove dove abbiamo voglio dire l'idea di portarli a respirare nei boschi qua è assolutamente assolutamente centrata. Quindi senti ne approfitto per ancora entrare più nello specifico. Le persone che quindi cercano questo nuovo concetto di bere essere, secondo te quando è il momento che la mente fa clic e quindi decidono di fare un'esperienza di turismo perché poi nei piccoli territori diciamo il lavoro che stiamo cercando di fare è quello di fare una rete, di aggregare perché insomma nelle strutture come i grandi alberghi c'è già un po' un modello, qui abbiamo tanto ma frammentato. Guardami una cosa che avevamo già parlato, tu sei un grande camminatore, hai fatto il cammino di Santiago, se mi posso permettere di dirlo. Sono un anziano camminatore perché sono tutto rotto. Sei uno che ama stare in natura, quando hai bisogno di ritrovare energie, poi tu ti svegli alle sei della mattina, ti hai già un'oretta di camminata, tua moglie si sveglia un'ora prima addirittura e quindi questo è già wellness, cioè questo è già la ricerca perché quando tu sei a contatto con la natura fai una grande cosa. Allora perché un turista dovrebbe entrare nelle nostre nei nostri boschi o nelle nostre camminate nelle spiagge? Perché ogni turista diciamo ha nella sua nella sua impronta digitale ha una stagione, per cui c'è il turista che ha l'impronta autunnale, quella primaverile, quella invernale e quella estiva e ognuno di questi ha un modo di approcciare la natura in maniera diversa. Quando noi parliamo di camminate in mezzo ai boschi sarebbe bellissimo che con la tua esperienza si potesse fare un progetto relativamente alla nostra parte di Appennino. Perché? Perché camminare in mezzo ai boschi con un progetto strutturato, camminare, quei dieci, non parlo dei trenta chilometri che facevi tu al giorno, ma dei dieci o dodici o quindici o cinque chilometri permetterebbe alle persone veramente di rigenerarsi. E quando farlo? Non c'è un momento di quando farlo. Guardiamo l'ambiente che stiamo vivendo adesso. È un ambiente difficile, particolarmente impegnativo, dove le persone sono molto stressate, ogni giorno c'è una regola che cambia, il mondo del lavoro si fa sempre più faticoso. Ecco, sarebbe importante creare proprio momenti nei quali le persone, anche per un fine settimana, anche per un venerdì, sabato, domenica, un long weekend, possano andare, immergersi in qualcosa. Ma potrebbe essere anche il mare d'inverno, no? Come cantava qualche cantante. Nella Appennino ci manca il mare, ma insomma è lo stesso principio. Potrebbe essere il fiume d'inverno, certo. La pioggia o la nebbia o il sole aiutano tutti, perché ognuno di questi è un elemento che porta a benessere nelle persone. Ma ancora una volta, Giacomo, tu che l'hai vissuto in prima persona, ciò che conta è il fatto di avere una persona che conosce la fisiologia delle persone, conosce non solo l'aspetto psichico come, come dire, come funziona la mente secondo Freud, Jung, ma anche secondo nuovi parametri. La medicina forestale, per fare un esempio, no? È una medicina che oggi molti medici prescrivono, quindi è una prescrizione medica dove la persona sa che si deve affogare in quel determinato bosco, in quel determinato momento, per ritrovare nuovi equilibri, forze, motivazione, desiderio di vita. Ricordiamo che oggi il numero di suicidi è elevatissimo. È elevatissimo, certo. Quindi concentrarsi, come stai facendo tu, su questo tema è veramente una cosa straordinaria. Anzi, bisognerebbe proprio educare tutti quanti gli albergatori, tutte le persone che hanno anche alla relazione, che hanno a che fare con queste parti dei nostri mari, dei nostri monti. Sarebbe bellissimo, sarebbe un progetto unico nel suo genere, ma soprattutto che porterebbe equilibrio psichico nelle persone, con anche dei momenti di aula, di condivisione, gruppi piccoli, dove le persone si parlano, dove le persone raccontano la loro esperienza. Già portare fuori questo è una cosa bellissima e quindi oggi il wellness deve guardare quest'area, che è l'area della psicoattitudine e del psicoambiente, cioè io in fusione con l'ambiente, che non è, come dire, è medicina, sto parlando di medicina, non sto parlando, come dire, di un'idea che nasce dal marketing. Il marketing lo può trasformare in benessere totale e quindi questo è un compito che credo tu possa assolvere in maniera straordinaria. Beh, interessante questa idea del benessere totale, molto interessante. Senti, e in questo, come si crea la rete tra gli imprenditori? Insomma, tu sei l'uomo che, come dire, indirizza la mente, no? Lo psicologo, il mental coach fa un po' questo, perché nei, in quello che diciamo vengono considerati un po' i territori minore, la complessità è proprio quella di mettere insieme le forze, no? Quindi le forze che sono in campo, con le loro visioni, le loro dinamicità, insomma. Quindi, in questo, che cosa si può fare? Cioè, perché il concetto di rete è ampissimo, ma proviamo a dare tre indicazioni su come si comincia a fare rete tra gli imprenditori? Allora, guarda, la prima cosa, un imprenditore, uno che ha impresa, l'elemento che per lui è fondamentale è la performance finanziaria. Parliamoci chiaro, perché se no parliamo di filosofia e non parliamo di concretezza. Uno che fa impresa, il suo obiettivo è far star bene sicuramente i suoi collaboratori, ma l'altro è quello di performare, perché se no ci siamo raccontati una grande bugia. L'imprenditore vuole avere libertà, vuole avere un personale motivato, vuole avere collegamento e collaborazione con altri, in altre parti, perché la sinergia fa la differenza. Allora, il tema, per esempio, che ho rivisitato proprio a Cervi a questo fine settimana era incontrare una serie di medici, psicologi, comunque operatori che avevano una, come dire, una frequenza mentale sul concetto del wellness che era precisa. Ognuno di noi ha portato una relazione. Lì dentro sono nate sinergie. Io ho creato una sinergia con un medico che si occupa di medicina forestale, con un medico veterinario che si occupa del benessere degli animali, ma conseguentemente al benessere delle persone, perché animale, la malattia dell'animale è la rappresentazione del rapporto che la persona ha con l'animale, per cui nel metterci assieme io lavorerò con le persone, lui lavorerà sugli animali, io porterò imprenditori nel mondo dei boschi e l'altro racconterà perché il bosco fa bene. Quindi quando gli imprenditori capiscono il senso del mettersi assieme anche tre giorni, quattro giorni con te dentro in una struttura e capire che loro stessi stanno bene, molto probabilmente indirizzare, tu sai che su ogni busta paga c'è una piccola parte che va nei fondi, indirizzare questi fondi per i propri collaboratori e portarli a fare un'esperienza anche sinergica con altri che hanno la stessa identica tipologia di lavoro, non significa andare a fare il bracetto con la concorrenza, significa portare le persone a vivere in 20, 10, 15, un'esperienza diversa. Possono essere dei giochi, possono essere anche un team building, ma dove? Al mare? Al freddo? Se c'è il freddo? O in montagna, in mezzo alle cose camminare, rientrare, fare le saune, ma poi fare e dire perché quella sauna ha fatto bene, perché abbiamo avuto un'apertura mentale. Se oggi non lavoriamo col concetto di aperture mentali, quindi allargare le nostre convinzioni, il mercato crollerà. Noi abbiamo bisogno di capire dov'è la frontiera che abbiamo e adesso ce l'abbiamo netta e superarla. Allora tu che hai fatto corsi ovunque in giro per il mondo, sai perché tu hai successo? Perché hai allargato il tuo concetto di convinzioni. Bisogna portarlo anche negli imprenditori dove sono un po' più rigidi. Permettimi, qua in Romagna siamo un po' rigidi. Quindi diciamo che poi nell'Appennino insomma, sai, lì sono ancora un po' più coriacei, no? Quindi tu ti immagini diciamo che ecco questa rete possa viaggiare in un mix tra il prodotto, quindi diciamo proprio gli aspetti tecnici e la cultura d'impresa. Assolutamente sì, si fa il wellness, si fa divertendoci, ritrovando la nostra anima, migliorando le nostre capacità cognitive, come riuscire a fare business, come fare network e quindi crescere dal punto di vista formativo, crescere dal punto di vista anche del benessere fisico, toccare con mano che se noi miglioriamo delle nostre frequenze corporee, le nostre cellule sono fatte di vibrazioni, noi possiamo automaticamente portare in casa persone molto più motivate ma soprattutto imprenditori più aperti. Certo. Più il circuito si chiude, più noi non otteniamo risorse. La domanda che io faccio a te è dov'è che c'è stata la tua evoluzione? Cosa è stata in Italia o quando sei andato all'estero a vedere quello che succedeva all'estero? Ci sia evidente, certo, assolutamente. Ma ecco, diciamo che dovremmo capire come portare quelle esperienze qui sui nostri territori perché oggi noi qui parliamo di Romagna Toscana che ha radici storiche molto profonde ma nella sua applicazione diciamo più commerciale è da un tempo relativamente breve che se ne parla ma solo spostandoci di qualche chilometro abbiamo la Wellness Valley che è un modello che viene preso da esempio su scala nazionale evidentemente con un imprenditore illuminato che ha investito capitali propri quindi è assolutamente un approccio differente ma questa idea della Wellness Valley io credo che sia assolutamente applicabile anche a distretti turistici come quello della Romagna Toscana o che lo vogliono diventare. Tu credi che sia possibile, cioè tu tu vedi questa evoluzione insomma dal punto di vista dell'approccio mentale che le persone abbiano facilità nel poter decidere di comprare anche questo tipo di offerta turistica? Guarda, non sono convinto, sono convintissimo. Ho un'esperienza diretta che tu conosci. 15 anni fa insieme a Sergio Marchion, ai suoi manager, noi abbiamo portato l'idea di una qualità di vita migliore dei manager una capacità di conoscersi in maniera più approfondita e vivere la realtà del lago in quel caso ci siamo portati nel lago, abbiamo vissuto il lago in tutte le sue manifestazioni in tutte le sue manifestazioni temporali quindi dal temporale al bel sole e sono stati tutti estremamente contenti, tornavano a casa dopo tre giorni iper-regenerati ma la cosa più bella è che avevamo fatto una sinergia con gli alberghi per cui non avevamo solo un albergo, abbiamo ruotato per tre anni consecutive con centinaia, centinaia di manager Quindi diciamo vedi il segmento degli incentive, cioè tu stai dicendo che quello potrebbe essere sicuramente qualcosa che in questo tipo di caratteristiche di questi territori potrebbero... Ma guarda, poi i manager sono tutti tornati con le loro famiglie nei vari alberghi a fare poi vacanza e quindi questo ha permesso di allargare ma soprattutto di permettere comunque noi l'abbiamo fatto poi insieme a Derbeco che ha portato altre imprese dentro e abbiamo fatto per molti anni questo credendo proprio che, non so, il lago in modo particolare potesse portare beneficio agli imprenditori, agli albergatori ma potesse portare beneficio anche a chi usufruiva dei servizi e non ci fermavamo soltanto all'attività formativa in termini anche di team building ma anche di cultura sulla salute perché perdere un po' di peso, come perdono... non è solo la dieta ma anche come l'atteggiamento mentale perché era importante la camminata abbiamo abituato persone che erano sedentari a fare veramente dieci chilometri come abbiamo fatto, evidenziato, non so, i monumenti, abbiamo fatto la gita ai monumenti pensa che abbiamo fatto un team building bellissimo dove ognuno fotografava il monumento, le cose, la ricerca e poi lo raccontava in aula con la sua passione e poi abbiamo fatto un grande puzzle di tutto quanto questo quindi è anche la scoperta del territorio, anche i particolari del territorio è l'unico modo per portare le persone a conoscerci, se non lo facciamo non basta solo una pagina via web ci vuole molto di più e ci vogliono esperti, ribadisco, esperti nell'ambito della salute psichica e delle malattie eccetera perché qualcuno che arriva, come tu ben sai, qualche piccola patologia da qualche parte ce la può avere e anche raccontare come può guarire è fantastico sì sì, assolutamente, lo condivido in pieno senti, il mental coach, che fa molto figo no, questo, il mental coach è interessante diciamo che oggi c'è il vocal coach, insomma c'è il coach per tutto oggi comunque è una figura direi estremamente attuale nel panorama nazionale e lo vediamo anche affacciarsi al turismo dentro tantissime proposte appunto che gli alberghi fanno che i territori propongono ecco, cosa ne pensi in questo e se hai qualche esperienza da condividere per i nostri imprenditori, insomma ecco qualcosa di concreto che possono assolutamente attuare ti dico questo perché ricordo tra l'altro di una persona che tu conosci che tantissimi anni fa aveva un ristorante a Bagno di Romagna che era il Gambero Rosso e erano marito e mogli, insomma la figlia che poi nel frattempo è cresciuta e il marito, io lo ricordo, che accompagnava gli avventori, gli amici cominciavano ad arrivare i primi giapponesi che facevano i corsi a fare la raccolta delle erbe dimenticate ed era una roba avvantissimo, io insomma ci conoscemmo nei corsi di sommelier quindi insomma sono passati un po' più di vent'anni e questa cosa era un'innovazione assoluta perché oggi parliamo di user experience, turismo esperienziale, turismo lento ma allora c'era il mare che era diciamo così fagocitava tutta l'offerta e qualche eroe che nell'appennino cominciava a dire ma ci siamo anche noi, insomma c'erano loro, c'era Paolo Teverini che sarà oggi pomeriggio con noi fantastico, lo ricordo c'era così insomma qualcuno che cominciava ecco da lì sono passati vent'anni e oggi nelle proposte cominciamo appunto a vedere anche il mental coach quindi visto che tu insomma sei uno dei più autorevoli in questo settore ecco mi piacerebbe il tuo pensiero su questo sono il più anziano di questo gruppo sì, una volta ci chiamavano consulenti poi siamo passati con dei dottorati a dottore poi adesso poi siamo coach, mental coach, life coach la seconda della zona d'Italia cambia un po' se vai a Roma è sempre dottore se vai un po' più a Milano è più mental coach business coach li hanno conditi in tutti i modi io faccio solo una breve premessa per fare il psico health coaching cioè questa metodica PHC ho preso un dottorato di ricerca quindi ho fatto una ricerca ho lavorato su 31 pazienti 24 mesi per poter mettere come dire appunto un sistema che fosse scientificamente provato e che sia avvallato da università questo già deve fare la differenza tra leggere un libro e raccontarlo e applicare tutto quello che si conosce in termini di fisiologia biologia, microbiologia cioè ci deve essere dietro tanta cosa perché quando guardi un volto devi capire che cosa c'è dietro quel volto che storia c'è dietro quel volto io per esempio studio tutte le asimetrie dei visi tutte le rughe, tutte le forme e questo mi aiuta tantissimo nel mondo ma sia aziendale per scegliere il collaboratore corretto e sia, ma questo lo sai perché lo facciamo assieme quindi ti racconto niente di nuovo lo racconto ai telespettatori ma anche per poter dialogare comunicare in maniera efficace perché la comunicazione non è come si diceva una volta sta nel risponso e nelle intenzioni che tu hai ma dipende dal stato d'animo della persona che sta davanti, dal tuo e da tanti altri fattori premesso questo quello che tu dici e io condivido pienamente perché quel personaggio che tu raccontavi che andava alla ricerca delle erbe insieme ai suoi clienti noi, e con te, è stato riproposto per fare delle cose molto semplici si chiamano cooking competition noi le chiamiamo cooking competition ma vuol dire approccio alla cucina conoscendo le erbe del posto e quindi a seconda della stagione ecco perché il corso viene chiamato in tutte le sue stagioni noi possiamo andare nel bosco possiamo andare da qualche parte anche prendere le persone in hotel al mare e portarle da qualche parte e con una persona che conosce molto bene come dire le cose ci va e va in mezzo al bosco a prendere quelle erbe con la persona o il fungo e poi torna in cucina a gruppetti di dieci e si divertono pure a cucinare allora questo vuol dire che arricchisco la mia testa di quali possono essere delle erbe mediche ecco perché quando parlo di medicina forestale mi esalto perché di dentro trovi equilibri ma puoi sciogliere l'erba la pianta quello che ti interessa se lo chef è bravo e ha voglia di insegnare qualcosa rende partecipi quindi la persona quando va a casa il manager o l'imprenditore va a casa come dire va a casa con una cultura anche sia dal punto di vista dei vini ma soprattutto dal punto di vista del cibo allora ecco che la Romagna mamma mia Giacomo la Romagna può insegnare a mezzo mondo e tutto quanto questo poi tu sei un intenditore di vini quindi non parlo di vini con te perché hai la cantina più grande d'Italia ma ma anche sui cibi sei iper raffinato perché tutti credo tutti i più grandi chef al mondo li hai conosciuti ecco li hai conosciuti perché tu hai passione ma a portare le persone si appassionano capisci e anche quelli che come me non sanno usare una pentola dopo un po' dicono ma sì guarda uso quell'erbetta che si trova in quel monte eccetera facciamo delle cose bellissime allora ecco che non è il mental coach tradizionale cioè conosco quattro righe della programmazione neurolinguistica piuttosto che della della psicologia cognitiva conosco molto di più conosco la biologia conosco i visi comincio a conoscere perché una persona è motivata la motivazione è il motivo per entrare in azione qual è il motivo per entrare in azione qui in GP Studios sappiamo quali sono i motivi per entrare in azione e quindi gli diamo offriamo qualcosa che altri non possono offrire quindi tu lo vedresti insomma come proposta all'interno di un pacchetto cioè secondo te può spostare turisti che decidono di fare un'esperienza in un territorio cosiddetto minore rispetto ai grandi nomi e all'interno di questo fare tutto un percorso assolutamente immagino le cliniche del benessere insomma adesso anche a questo caroterme ce n'è una ma legata proprio agli aspetti diciamo di salute piuttosto che quelle più conosciute insomma in Kerala piuttosto che in Slovenia quindi esistono già questo tipo di realtà insomma che ragionano un po' ma possiamo innovarle abbiamo strumenti oggi strumenti fortemente evoluti in campo comunicazionale in campo della salute nel campo della gestione delle risorse umane all'interno delle aziende noi abbiamo strumenti che in questo momento in questo momento storico al mondo non ci sono perché perché vengono da una sofisticata ricerca su 22 23 mesi che sono stati legati al lockdown sul quale noi come team ci siamo e noi anche come ricercatori ci siamo impegnati come universitari ci siamo impegnati a portare avanti e questa questo know-how lo possiamo riversare proprio qui dentro e portare gli imprenditori ad un livello diverso ricordo che gli imprenditori di eccellenza illuminati sono quelli che non hanno come dire convinzioni che li limitano sono illuminati perché vedono oltre e lo possiamo fare grazie agli elementi di natura che noi abbiamo e grazie ai nuove ricerche che stiamo portando avanti che io porto davanti in questo congresso di Cervia dove credo senza presunzione ma lo può confermare mia moglie non ho mai ricevuto che erano quattro cinquecento persone una stand innovation ma non perché sono stato bravo ma perché ho portato dei contenuti che grazie a te grazie anche ad altri imprenditori illuminati mi hanno permesso di andare a approfondire e portare nel canale delle aziende e anche delle persone che devono stare bene bene senti Ameneo voglio usare gli ultimi minuti del tuo del tuo tempo per dare proprio un suggerimento e una messa a terra noi abbiamo capito che il wellness si abbina davvero a tantissimi concetti quindi un tema molto molto ampio diciamo che alla cura della persona nel suo insieme da tutti i punti di vista e devo dire che insomma la Romagna Toscana probabilmente se facessimo un elenco queste caratteristiche le ha tutte se domani dovessimo organizzare un'offerta e quindi inserire questi aspetti da dove partiremo quindi un consiglio pratico per poi gli imprenditori che domani o i consorsi turistici si devono mettere in rete quindi dire ok la tecnologia ci può aiutare in che modo lo possiamo mettere a terra con una comunicazione efficace che magari utilizza anche come dire una modalità più vicina alla PNL o tu prima parlavi dei tratti somatici quindi è meglio lavorare con delle suggestioni in video ecco qualcosa di concreto perché io ritengo che poi il il minus di questi luoghi meravigliosi sia sempre metterli insieme la mancanza di strumentazione perché poi si trovano a competere con dei colossi enormi poi è vero che la la parabola di Davide Golia insegna ma in questo caso Golia è un po' grandino insomma ecco quindi ci sono troppi Golia rispetto ai pochi Davide ecco al momento vediamo tanti territori ma che insomma noi lavoriamo dal lago di Tenno a Scanno che ho citato nel mio libro quindi posti molto belli ma molto piccoli dove quindi anche il massimo della sinergia insomma fa fatica poi a produrre una leva tale per essere interessanti poi a certi tipi di mercati quindi di sicuro mercato disintermediato ecco in questo eh non so io mi sono anche immaginato eh figure come te che possono essere degli ambassador no che quindi lavorino trasversalmente su più segmenti quindi insomma anche un po' per chiudere volevo dare noi siamo in diretta adesso sul sito sul scusa sui canali social della Romagna Toscana e probabilmente verrà ricondiviso insomma sulle pagine social di tutti i 14 comuni per cui insomma da qui ai prossimi giorni una buona audience andrà a cercare Amadeo Furlano insomma che cercano me trovano anche te quindi non è difficile sì sì non è difficile trovarci siamo uniti esattamente non è difficile trovarci quindi in questo insomma un tuo contributo prima di chiudere il nostro talk allora Giacomo analizzando di cosa ha bisogno oggi un'azienda sicuramente selezionare bene il proprio collaboratore trovare un collaboratore che abbia come dire le caratteristiche che io voglio avere che voglio inserire nella mia azienda l'altro avere anche un modello innovativo mai pubblicato quindi che possiamo trovare solo qui che è il modello 4D che è il modello di drivership che è lontano dal concetto della leadership tradizionale si chiama drivership cioè la capacità tool drive di guidare le persone e quindi sapere quali sono i quattro elementi e qui creeremo della curiosità per portare le persone ad ottenere il massimo risultato noi questo modello l'abbiamo spiegato anche agli imprenditori degli alberghi di Cervia e credo che sia stato un successone l'abbiamo fatto via web proprio perché non erano abituati a vedere il concetto di risorso umano e l'altro è la capacità perché nel modello ci sono diversi item cioè diversi strumenti che vanno dallo sviluppo alla comunicazione al come decidere al come guidare in maniera sintonica tutti i collaboratori da quello che entra appena entrato quindi non conosce niente della nostra azienda a quello che invece dobbiamo imparare a delegare perché chi sa fare questo dell'impresa la verticalizza in termini di fatturato la verticalizza in termini anche di tempo per l'imprenditore perché noi abbiamo bisogno di tempo il tempo è una delle poche risorse che non possiamo rigenerare allora agli imprenditori dico prendetevi del tempo scegliete la località trovate il modo di abbinare l'elemento formativo che deve essere crescita come abbiamo detto dal punto di vista del come riesco a motivarmi quali sono gli elementi i valori che per me sono determinanti per fare il salto qualitativo e nello stesso tempo avere strumenti che altri non hanno quindi sarà limitato per pochi probabilmente all'inizio è limitato per pochi perché è come dire ti sto dando a te l'ultimo iPhone che non ce ne saranno altri mondi e te lo proverai per due anni ecco che allora le persone probabilmente abbinate al territorio abbinate agli altri elementi daranno vita a tutto quanto questo quindi noi creiamo la cosiddetta banca della rigenerazione economica perché portiamo delle persone anche in quei posti dove magari non ci saremo mai andati e allora questo posto magari ritorna dall'imprenditore a comprarsi quel cartone quella cosa e allora noi facciamo in questa banca della rigenerazione ricreiamo di nuovo quel volano economico che serve alla nostra industria turismo e ai nostri imprenditori diventare migliori per poter parlare con imprenditori esteri che sono molto avanti ma per noi è imparare a parlare anche con i nostri clienti che vengono in hotel piuttosto che per noi parlare con i nostri imprenditori però anche qua di con gli imprenditori attenzione non basta solo un curriculum dovete testare il cosiddetto mental coach il professionista dovete testarlo perché lui deve sapere non una pagina più del libro come hai detto tu deve essere concreto ti deve portare il risultato qui non ci piove se è uno che è bravo teoricamente ma nella vita non ha ottenuto o non ha fatto una carriera tale da poter dire questo è un pedigree se l'hanno chiamato in questi vuol dire che è un pedigree ma quando viene nella mia azienda mi fa fare anche fatturato allora basta questo è il mental coach ideale per voi quindi diciamo che ecco proprio per concludere immaginando il profilo degli imprenditori di questi territori che è un po' one man show nel senso che insomma sono praticamente tutte gestioni familiari dove quindi poi l'imprenditore va dal fare la spesa al commercialista alla gestione dell'ospite quando arriva a seconda della tipologia insomma di azienda se leggo bene tra le tue parole tu stai dicendo diciamo loro stessi devono diventare come dire il vero brand quindi ognuno di loro poi da lì sviluppa un suo storytelling e diventa un po' ambasciatore della propria azienda insomma quindi prendi se stessi e anche deve imparare anche a come dire far transitare il proprio sapere alle altre generazioni alle proprie generazioni e trasferire la stessa passione e mettere la giusta benzina perché le persone facciano azioni costanti e continue perché se no se ci si ferma la prima azione non si ottene nessun tipo di risultato bisogna cominciare a muoversi e agire il territorio che abbiamo è un territorio che si presta benissimo sia per verticalizzare la propria predisposizione all'anima e quindi contatto con la natura sia per disporre tecnicamente gli imprenditori alla conoscenza di nuovi strumenti comunicazionali di gestione personale e lo possiamo fare muovendoci nel territorio usufruendo delle risorse fauna flora del territorio per divertirci e nello stesso tempo imparare qualcosa di nuovo questo è il territorio giusto e credo che tu abbia centrato in maniera molto precisa qual è il futuro bisogno da soddisfare bene Amadeo ti ringrazio tantissimo come sempre sei illuminante insomma ecco penso che questo tema come accennavo all'inizio questa parte di progetto è un piccolo tassello insomma in uno scenario molto più ampio che oggi ragiona di B2B ma per arrivare poi un domani al vero B2C insomma e quindi alla vendita del prodotto all'utente finale grazie ancora di tutto insomma quindi poi la nostra diretta rimarrà visibile sui canali social appunto della Romagna Toscana e buon lavoro e grazie ancora grazie a te grazie a tutti quanti che ci hanno ascoltato ciao Giacomo ciao a tutti ciao ciao ciao